Salve a tutti ragazzi, siamo tornati su Fortnite con due miei amici, salutate Ciao Aspetta l'ho messo come dicevo in voce, no? Fatto Aspetta sono in love Oggi faremo creativa, che mi cambio skin Che mi metterò Lui che fa paura Vediamo Ancì, lui, ti piace? Ho esempio, ti piace lui Ma ci ho di prima Eh? O di prima Aspetta, ma non lo uso mai questo Uso intanto questo Il piccone Questo E' uno sbroccato questo Anche Dai Aspetta un attimo Andiamo nel mio mondo Ah, perché c'è una moda E' un mondo già fatto E' un bello assai E' un mio Questo Va bene Andiamo a tutti nel mio mondo Va bene Aspetta Aspetta Ecco ci sono Faccio un balletto Ah, ci sei matti Facciamo tutti contro tutti Ah, le armi Ti spiego dove si trovano E' un forziere Sì Aspetta Le lo fai tu Se c'è fallo Le c'è fallo Il forziere Lo sai fare Matti No, l'ora Io non gioco mai a Fortnite Quindi Sento so sparare Alla Ti dà le armi Andrea Oppure Ti spiego io Come Era qui Dove cacchio Devo andare Adesso E' qua Aspetta Ma questa L'isola di streaming No E' qua E' la dove Sarebbe Incivale Perché c'è La skin Qua Qua E' la Pincata Sì Ok Eh Siete Dentro Allora Stiamo C'è La casa Ok Veni qua Do sei Eh Lo stai Io so Più Minamino Se Mi sono Sto Quacendo Sto Lotte Attenzione Che Lancia Laci Io Sono Midor Dentro Queste Strutture Vedo Lama Ce l'hai Ce l'hai I cosi No Fatto Come Come Ce l'hai Il Telle Il Fon Sì Eh Vini Cosa Di Fatto Ok Ah Ma Dato Le armi Trovate Dico Ma Quella Che Vuoi Tu Guarda Posso Fare Ok Aspetta Tolgo Il Pampa Prendo Questo Perché Devo Fare Teni Premi Ma Poi Prima Dovremo P Aspetta Prima Dovevamo Attivare Partite Però Prima Ti Faccio La Cassa Vieni qua Dimmi Che cosa Vuoi Vieni qua Di questa Montagna Qua Dove sono Io Aspetta Che sto Il punto Una pistola Dove sei Non ti vedo Io Sono Vicino Allorenzo Ok Quello Blu Aspetta Aspetta Ok Ho visto Ok Visto Questo Il secchino Spammone No Mentre Spammone Che non sei Altro Poi Anche Fly E puoi Anche Flyare Anche Volare E Dillo Prima Prada Un gioco Proprio Io A fortnite Quindi Allora Dimmi Che Vuoi Come Assalto Assalto Vabbè La scar R Ok Vai Bump Spassi Si dai Poi Come Vidri Yet Come Si Chiama Io Chiamo Il Aspetta Un attimo Di Anzi Se speciale Ti faccio Il forze Ti faccio Il lame Del Allora Tu Sai Build Non Gioco Forte Ok Scusa Ma Aspetta Non Dovreste Oggi Su Dillo Prima Cazzo Allora Ora Deve Aspetta Allora La mia Partita Si avvia Partita Ricordo Di tutto Ricordare Il punto Sì Ok L'ho capito Ok Potrà Aspetta Metti Le cure Anche Te ne metto Su Aspetta Un attimo Aspetta Un attimo Aspetta Un attimo E' Meglio Non ne uso Cura Usare Se no E' Meglio Dovesse Qua Io C'è T'ha Partito Ti Partito Ti Ricorda Il punto Sì L'ho capito Dove Cazzo Ragione Perché Si Trovato Tranquillo L'ho Trovato Avete Viste Che Ho Il Pezzo Sì L'ore Anche Usa Le stesse Alberi Che Vende Io Lo Scarl Lo Spass La Pino Avant Il Vote Action E Certo Sennò Che Deve Usare Quale Le armi Non si Vole Pesante Perché Troppo Lento Sotto Che Con Quel Danotto Seguino Tu Sei Che Spammi Sempre Quello Il Dragon Ma Io Sono Abito Troppo Code Che Premo Cerchio Per Abbassarmi Invece Non Posso Rifare R3 Lo So Però Io Sono Abitato All' Impostazione Di Mamma Mia Lo Forte Te Marede Fort Nut Un po' Per Bambini Certi Vole Paghi 12 Mi 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 Siamo Nessuno Siamo Vero Ma Che C'erchina Ma Quello E Il Dragon E Con Lo Spamone Che Tipo 41 Quello Che Poglie Poggere Tipo Spam non è automatico è l'automatico mamma mia però sto non è morto oh mio lor non stop 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 si ma è forte di paolo si vabbè paolo è il move scusa paolo ti voglio bene eh niente niente sono scarso le zone degli altri sono forti di neve una femmina che mi batte non ti rendi conto una femmina che mi batte non so gioco eh va bene non vuol dire niente uno del team vabbè ti entra pure io per fare una maschera non c'è dentro chi c'è qua che costruisce lori c'è lori ma non è lori anzi si ah lori con l'ange razzi con l'rpg no dai no dai zero hit c'è il zero hit mi hai fatto eh ah usi la mia costruzione per andare in alto eh vai no sto prendo con te lori sto prendo con eh stand oh però non vale eh cosa voi sapete buildare io no oh eh che vuoi lori lori lo sai che sei un infame io uso con il sinistro del consultore non solo con il combattimento guarda sul seguito questi domandi minchia io che provavo col p90 da lunga distanza ma tu sono un mostro perché avevo scaricato allo scar lui stava sparando anche su code nostra cosa da vicino con la p90 lo so che si spara da vicino con la p90 questo gioco non c'è nessuna non c'è nessuna logica perché i chopper dei ricotti si chiamano cioppa ma che cazzo indovinate dove sono ah esatto e sono ben nascosti in una casa e vabbè tu sei scemo che ci dici dove sei ma per quali tante case che ha costruito aspetta forse ho trovato qua c'è uno ecco si c'è c'è la piramide oh e che c'è sono egiziano questo è lo scherzo che vedi di giz carta forbi c'è c'è la fatica di assalto quanto voglio allora grazie lorenza che rispettano le istruzioni forse trovo però eccolo eccolo qua lorenzi però la fama di lorenzo la devo massacrare in qualche modo boom 3 kill da tutte le volte oh chi è col borg un game's ball aspetta che c'è lorenzo che lo conosco come le mie tasche che non conosco le tasche lo conosco perché quando tu lo uccidi lui si cerca che ti arriva all'indietro ci muore eh però io che lo conosco ormai con la frattata ormai troppo buona madonna in testa ma come cavolo fai madonna in testa c'è madonna in testa ancora una kill basta non gli esco più e ci allaggerazzi ma chi è quello che ha chi è quello che ha ma si qua nelle granade chi è pochi esterni visto che non l'ho preso ancora lorenzo mi sa non mi ha ammattato pure a me a vero si crema 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 no ma come e vabbè arriva pure lorenzo da dietro c'è lorenzo intanto io rispondo un bel lanciapatate lanciapatate bello mi piace guarda lo guarda lo guarda lo tre aldone ma mai di tu se fosse cosa una bella casetta mamma mia che prende che apriamo sempre cerchio per togliere il paracadute perché sono abitato a warzone per togliere il coda c'è anche battle royale e appunto è battero io orzo mamma mia a sei fortunato che non c'è lancia gran lanciara se uno commenta che si chiama darkstone io perché poi ovviamente sono ok e le persone che lanciarazzi non sono ben accette è lorenzo non lanciarazzi anche tu con lanciarazzi anche tu con lanciarazzi devo cercare a brindare a donne lanciarazzi eh guarda si mese ne dozzetto aspetta che è un attimo mi devo mettere il coso amore mi stavo bevendo è morto ora c'è tutto lo shield guarda sbaglio ma ma dove mattina modo ma quante chilometre 7 intanto sono salito con il passo 17 a livello di 75 ragazzi e mettete un like se vi piace il video se non ci piace ti USE non ci piace il video non ci piace se non ci piace perchè mi hai cercato esterni a chi è gloria in sila sotto aspetta un attimo ma che vi crescono i peli in bocca guardano ci sono stato un bel bocca a casa ma che dove c'è ma di dare altri comandi del combattimento di vita ma la sera non più ma la serata peccato a ecco dove forse l'ho visto no non mi hai visto no non c'è bisogno che la mia costruisce il pavimento dio io lori con lanciarazzi guardi lori poi poi spammare si razze perché sono infiniti cosa non ho fatto un po 10 no quando con quel ciclo post action fa 110 perché è tanto cariche a volte che leggendario quando invece con me l'epico fa sempre più blocco ma faccio scherzi ecco dalla padella alla braccia uno dietro e uno davanti 9 ciclo scarico che mio non è che da dietro qualcosa del drago io sono l'ora è spammone con lanciarazzi che si chi che senta lo danno l'ora con lanciarazzi minchia lo stavo prendendo minchia ci stavo vedendo ma comunque mi hai rubato la kill ma che rubato la kill io finchè minchia minchia mi pagano che è davvero in più uno che gioca a record no fa qualche movimento in piedi che si possa aspettate allora aspettate perché non ha più munizioni del fucile non ce l'ha infinita come non ce le vede non è possibile sono infinite 30 su 8 però non possono essere infinito sul conto e non ce l'ho accorto, sorry troppo chi è che ha l'erco? niente nessuno io sento l'erco no, lei ha spammato, ha spammato la bomba dall'interno minchia non lo avevo no, no, per dirti del cambio in caldo perché lui mi aveva trovato gli ho fatto il giro da dietro e l'ho ammazzato ma quante casse ci sono qua io non trovo la cassa di cosa di Lore balla presa però ci sono quelle fisse dico a doppio scala vai da pesca la scuola no no a fare doppio scarico di deve fare 90 come cazzo si fanno che con lancia granate e che c'è che dittarne con lancia granate no abbassi builder e ora sono pure pronta a prenderti al volo no ho tutto che mi cambia chi da dietro adoro bomba e fino avanti insieme lo spasso fino avanti ma che fu strada quella la c'è l'ora io del tecnicamente dovrei staccare di staccare e che devi fare devo fare con dei miei amici ho detto prima che dovevo fare quel video per un mio amico ma c'è non è che volevo aiutare rispetto ai nostri uno dietro davanti non so che sto a tirarsi dov'è da sapere quella cosa è possibile ma guarda usi le mie costruzioni per andare avanti ma guarda usi le mie costruzioni per andare avanti e beh madonna mia ma io veramente testempo róh cristo quello con i razzi l'ho mai ta' Dio ma perchè con i lanci Con le RPG con la cosa lancia e granata Basta Dai dai che canto Tranquillo che lo sto meglio Tranquillo morto Nooo all'ultimo Ti ammazzino Nooo si è servato all'ultimo Tranquillo d'ora Che non duri tanto ora Quante costruzze ci sono Eh colpa mia Che è che si è buildato Io sto buildando Non c'è se si lancia razze Ma no va se si lancia razze No per togliere tutte le Tutte le cose si chiamano Costruzioni mi danno fastidio Adesso si lancia razze guarda Io lo uso solo per togliere le Colorenzo Soluzione Colorenzo le spam tipo C'è carica 1 Carica un altro Carica un altro Carica un altro Ciao Ciao Devo Aumentare la sensibilità Se non è meglio Ce l'ho Bassa Ho voglia L'anlam Deve riuscire a fare Un 90 Ah tu c'è Lorenzo Tra No Che con i messaggi Io Con le cose Di Trovato Il Spompa Da Vita Lontano Vero Vero Sì Perché È una mia Tattica Sai 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 Non Neanche Da 5 6 6 6 7 7 Neanche Ecco Abbiamo tolto Lorenzo Aspenla Lorenzo Ricordo BOOM come ha fatto una bella non 110 l'ho fatto 116 che lascia un buco sul tetto tutti si vede sulla che riguarda sto facendo io certo sono solo ma voglio prodotto la fine del teso ha aspettato e che c'è anche un mio amico simone briganti e cosa se mi vabbè dai la rio devo staccare ok allora il video si si finisse qua ragazza